Parte da una riflessione sugli avvenimenti tragici del mondo, la fame, lo sfruttamento minorile, la violenza, le guerre, l'inquinamento, la mostra Silenzi realizzata dall'Associazione Culturale I Buffoni di Corte e ospitata al Museo Ettore Fico. La ONLUS impiega da anni persone disabili nei propri laboratori artistici con l'obiettivo di favorire i processi di integrazione. Sono nove le opere esposte ognuna delle quali tocca un grande tema di attualità come spiega il fotografo Luca Nicolino. Si è trattato della violenza sulle donne, si è trattato del problema della mafia, dell'inquinamento, tutti i problemi che spesso sembrano lontani da noi che invece poi ci riguardano da vicino. Questo ha fatto sì che ognuno abbia sviluppato un pensiero, abbia sviluppato l'intenzione di rappresentare questo ed è stato trasferito poi con delle immagini, con persone che si tappavano gli occhi, le orecchie e la bocca quasi a non sapere che cosa fare di fronte a queste tragedie che ci circondano. La mostra è visitabile con ingresso gratuito fino al 21 giugno negli spazi di Via Cigna 114. Grazie.